Con l'arrivo dell'estate i nostri amici a quattro zampe soffrono il caldo proprio come noi. Le alte temperature non risparmiano gli animali, vittime d'avvolta dei loro padroni. Gli animali domestici che presentano temperature corporee alte di per sé, in estate come l'uomo, possono andare incontro al colpo di calore o al colpo di sole, che può mettere seriamente in pericolo la vita dei nostri amici. Ecco perché dobbiamo essere particolarmente attenti a tutelare la loro salute. Inganati da stereotipi e luoghi comuni, spesso infatti non sappiamo come aiutarli e commettiamo errori che potrebbero rivelarsi fatali. Da qui la necessità di sapere come comportarci quando decidiamo di portarli in vacanza con noi, di come riconoscere i segni di sofferenza e soprattutto come intervenire per poterli aiutare. Ecco perché ci siamo rivolti a un veterinario. Come riconoscere il colpo di sole? L'animale comincia ad avere una salivazione intensa, un respiro corto e molto affannoso, salivazione con saliva pastosa, secca, biancastra e una fame d'aria evidente. Se ci si trova in borsa un termometro digitale, va bene anche quello pediatrico, si può immediatamente misurare la temperatura, il termometro segna a volte le temperature così elevate, che superano anche i 41 gradi, che mettono realmente a rischio la vita dell'animale. Cosa fare nell'immediato? È importante saperlo, raffreddare subito l'animale con acqua fredda ma non ghiacciata. Se non si è a disposizione dell'acqua, magari anche un ventilatore o un climatizzatore, ecco è importante raffreddare gradualmente il cane o il gatto al fine di far scendere la temperatura corporea. Bagnare le estremità, le dita, i polpastrelli, le ascelle con dell'alcol, che ha la funzione di allontanare il calore dal corpo, dare dell'acqua a disposizione, ma non forzare il cane se non vuole bere. Fatto questo, ed è importantissimo, perché dalla tempestività dell'intervento del proprietario dipende la successiva prognosi del cane. Se si riesce a fare questo in maniera più o meno tempestiva, bisogna comunque andare immediatamente da un veterinario che possa effettuare tutte le terapie del caso al fine di ripristinare la temperatura corporea e di evitare tutti i segni successivi, quali per esempio le convulsioni nei casi gravi, il vomito, la diarrea, eccetera. E quindi poi sarà il veterinario a cercare di mettere in salvo la vita del nostro animale.